Al via domani a Buseto Palizzolo la due giorni dedicata allo sport, alla natura e alla gastronomia tipica del territorio per la sesta edizione della Gran Fondo Lombardo, organizzata dall'ASD Team Lombardo Corsa con il patrocinio della Federazione Ciclistica Italiana ed inserita nel circuito della Coppa Sicilia. Si comincia domani con una serie di eventi collaterali pensati per tutta la famiglia. Dalle 14 alle 21 è possibile visitare l'Expo Village, mentre alle 15 è in programma una visita gratuita al Bosco Scorace, uno dei più antichi e vasti della provincia di Trapani con i suoi 700 ettari circa, famoso per i porcini neri. Il Bosco viene raggiunto con una navetta gratuita. Dalle 16 alle 19 i migliori istruttori siciliani di spinning proporranno sessioni di allenamento gratuite, mentre alle 17 cooking show dei cuochi locali che prepareranno presso il centro di informazione e accoglienza enoturistica, sede della Proloco, due piatti tipici del territorio, le busiate e il couscous. Domenica 3 aprile è il giorno delle quattro competizioni ciclistiche, due su strada e due di mountain bike, lungo un percorso incantevole che regala panorami mozzafiato dalla riserva naturale dello Zingaro al pianto romano di Caratafimi e al tempio di Segesta, con vista delle isole Egadi e delle saline di Trapani. Il percorso raggiunge un'altitudine massima di 693 metri sulla Rocca di Erice, un dislivello di 2928 metri. Attraversa i comuni di Buseto Parizzolo, Castellammare del Golfo, Calatafimise e Gesta, Vita, Trapani, Custonaci, Valderice ed Erice. Alle 9 partono le gare su strada, la Gran Fondo Lombardo con un percorso di 159 chilometri e la Medio Fondo di 115 chilometri. E alle 9.30 le due gare di mountain bike, la Gran Fondo Scorace di 43 chilometri e la Marathon Scorace di 63 che attraversano il bosco. Al traguardo saranno schierati circa 700 ciclisti provenienti da tutta Italia ma anche dall'estero con team di Lettonia, Finlandia e Germania. Alle 12 all'arrivo dei partecipanti pasta party con cucine a vista e musica e alle 15 la premiazione dei vincitori delle competizioni. Grazie a tutti!